Ciao ragazzi, oggi una recensione un po' diversa dal solito, mi è arrivato finalmente il tablet altro consumo, in omaggio quindi con le riviste, l'edizione 2016-2017 e ho pagato il primo trimestre da 23 euro, poi non so se voglio continuare l'iscrizione, comunque in tal caso il tablet mi rimarrebbe comunque, ho messo il logo per far sì che altri non rubino appunto il video e lo spacciano per proprio. Il prodotto ho scoperto che è praticamente un KRIG 791 che ha un costo di circa 60 euro, nella descrizione poi magari vi lascio anche il link con tutte le caratteristiche. Inoltre nella descrizione vi lascio anche la procedura su come fare, quindi l'articolo. All'interno della confezione troviamo un manuale anche in italiano, troviamo degli auricolari abbastanza economici e scadenti che non mi vanno nemmeno di aprire, troviamo un cavo di ricarica micro USB, eccolo qui, e troviamo anche un caricatore da 1,5A che permette di caricare il tablet in circa due ore, due ore e mezza piene. Abbiamo quindi una batteria da 2.500 mAh che vi permette di utilizzarlo una mezza giornata quindi con i giochi. Ovviamente non è un tablet che rispetta magari i miei standard o i standard degli altri, ma è un tablet che potete quindi regalare a un nipote, a un figlio, a un cugino, potete regalare a un vostro genitore, perché tutto sommato si riesce ad utilizzarlo come lettore PDF e ebook, si riescono a vedere in tranquillità i video su YouTube e si riesce a giocare anche i giochi più popolari, più blasonati, quindi gestionali, strategia come Clash of Clans, Clash Royale. Un po' più difficile invece far girare giochi come Real Racing o Modern Combat che sono comunque abbastanza impegnativi come risorse hardware. Andiamo a vedere quindi la parte estetica, abbiamo un 7 pollici con una risoluzione 1200x800, tasti non fisici sulla barra inferiore e abbiamo anche la rotazione già attiva. Poi abbiamo doppia fotocamera, andremo a vedere tra le impostazioni di Antutu che risoluzione, abbiamo tassi volume e tasto accensione e sul lato sinistro abbiamo micro SD, USB con funzione OTG, microfono e jack da 3,5. Poi abbiamo sulla parte posteriore anche la fotocamera esterna e abbiamo il piccolo speaker non stereofonico, quindi speaker singolo sulla parte inferiore. Vediamo quindi all'interno del tablet troviamo un sistema Android 5.1.1 Lollipop quindi non troppo obsoleto ma neanche troppo recente e abbiamo un'esperienza comunque abbastanza fluida e fruibile rispetto al precedente tablet che era propriamente un firmacarte. Andiamo quindi a vedere anche nelle impostazioni la memoria, abbiamo 8 GB, non so perché ci sia questa divisione tra archivio interno e NAND flash, ma sono riuscito a spostarlo senza problemi. Diciamo che riusciamo a installare 4-5 GB di giochi, anche se la nota positiva è che ho trovato già delle custom ROM per questo tablet tablet 791. Quindi è un tablet che non offre solo altro consumo ma in Europa e nel mondo comunque viene utilizzato anche per altre promozioni. Il tablet in questione è un KRIG 791 che costa all'incirca 50-60 euro e l'ho scoperto tramite le info di Antutu. Su Antutu ha registrato 18.000 punti, un punteggio comunque non troppo alto ormai di tablet di 2-3 anni fa e vediamo quindi cosa ci dice. Modello 791, quindi cercando su Google ho subito scovato di che prodotto si trattasse. Abbiamo poi quad core ARM versione 7 processore, VFPV versione 4 neon, Mali 400, 1280x800, una camera da 3 megapixel, quella esterna, poi la memoria RAM totale 998 MB, andiamo a vedere anche quella interna 2 megapixel, temperature nella norma e poi abbiamo anche il supporto all'accelerometro, accelerometro che funziona in maniera decente anche nei giochi. Andiamo quindi a vedere un po' l'utilizzo, vediamo la navigazione, ho aperto quindi Repubblica che è il sito diciamo più difficile da gestire in versione desktop e come vedete riesce comunque a visualizzarlo tranquillamente senza neanche troppi scatti. Come vedete l'interfaccia è abbastanza fluida soprattutto per un tablet che viene dato in omaggio. Andiamo quindi a vedere anche YouTube, YouTube magari con qualche incertezza a volte nella navigazione, qualche micro impuntamento, però nulla di grave. Vediamo un po'. Però il volume è abbastanza alto e quindi ci permette di ascoltare senza problemi l'audio. l'estetica rimane molto simile al precedente, perdiamo solo la retroilluminazione sulla parte posteriore che vi piaceva, appare un po' più spicoloso e molto più un MacBook like e abbiamo solo la possibilità di impostare fino a 720 di qualità ovviamente non avendo uno schermo full HD. Come vedete un po' l'incertezza quando navighiamo tipo tra i video consigliati. Per alleggerire il carico e andiamo a vedere un attimo le foto che ho fatto, quella anteriore che posteriore, anzi più penosa quella posteriore da 3 megapixel che come vedete non rende molto. Videocamera interna che però è possibile utilizzare per qualche videochiamata o qualche selfie veloce. Ho provato quindi anche ad aprire un pdf abbastanza pesante, 72 mega e in particolare il manuale di gioco di Munchkin Pathfinder che è comunque un pdf abbastanza pesante, infatti come vedete abbiamo bisogno di dargli un po' di tempo per caricare, però per il resto come vedete l'esperienza è abbastanza fluida. Vediamo quindi infine qualche gioco dove possiamo sfruttare il touch screen e l'accelerometro. Come vedete il tocco comunque non è assolutamente male. Abbiamo qualche micro impuntamento, qualche micro lag una volta ogni tanto, però nulla che va a influire comunque sul gioco, sulla qualità del gameplay. Provo anche Clash Royale che comunque è un gioco non troppo impegnativo in termini di risorse e questo gira davvero in maniera perfetta. Come vedete questi giochi non hanno bisogno di grandi risorse hardware per giocare. Andiamo un po'. Come vedete anche Temporun riesce a girare in maniera decente senza nessun impuntamento. Anche l'accelerometro risponde bene anche se non è molto molto preciso. Nella descrizione vi lascio il link per la procedura. Se avete qualche dubbio o qualche domanda potete lasciare un commento qui sotto e lasciate anche un mi piace al video per supportare ovviamente il nostro canale. Un saluto a tutti e alla prossima recensione. Grazie.